Una cosa è certa, se il centrodestra vince le elezioni del 25 settembre, Roberto Speranza non sarà più ministro della salute. Lo dice chiaro e tondo Matteo Salvini. Il leader della Lega Pubblica ha infatti uno scatto su Twitter che parla chiaro. Qui si vede il ministro e sotto la frase, mai più speranza. Ma non è tutto. Salvini aggiunge, mai più speranza. Farò di tutto affinché il prossimo ministro della salute sia un medico che conosce il tema di cui si occupa. A me pare semplice buonsenso, dello stesso parere l'alleata Giorgia Meloni che qualche giorno fa metteva nero su bianco gli obiettivi di Fratelli d'Italia. Una delle prime cose che faremo ad inizio della prossima legislatura sarà quella di istituire una commissione d'inchiesta sulla disastrosa gestione della pandemia. È arrivato il momento della trasparenza. Ognuno sarà chiamato ad assumersi le proprie responsabilità. Insomma la Meloni intende verificare l'operato di speranza tra lockdown e mascherine. Ma speranza è finito nel mirino anche delle famiglie delle vittime del virus. Sono 375 i medici morti per covid durante la pandemia. Di questi la metà sono medici di famiglie e pediatri di libera scelta. Le cui famiglie ad oggi ancora non hanno ricevuto nessun ristoro sono state le parole di Gennaro Avano, presidente dell'Associazione Medici a Mani Nude. Eppure il ministro della salute Roberto Speranza si era impegnato per un fondo da 15 milioni di euro rassicurando, anche durante un question time a luglio, che era ferma intenzione della governo procedere in tempi rapidi. Purtroppo non è stato così e le mogli, i mariti e i figli di quegli eroi sono stati dimenticati.